Salve tutti bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come configurare al meglio un controller su rpcs3 l'emulatore della playstation 3 quindi in questo caso per chi ha nostalgia sui vecchi giochi quindi vuole giocare ai giochi della playstation 3 in descrizione c'è il link che vi porterà sulla pagina per scaricare così l'emulatore però questo è più un tutorial su come configurare il controller sull'emulatore quindi una volta scaricato così l'emulatore è un pacchetto RAR che devi estrarre all'interno del pacchetto c'è già l'applicazione ci clicchi sopra la installi ed eccolo qua semplicissimo quindi in questo caso per configurare al meglio il controller ovviamente assicuriamoci di tenere il controller attivo e collegato al nostro pc quindi tasto destro su windows gestione dispositivi ed eccoli qua i nostri dispositivi ovviamente collego il mio controller wireless quindi connetto la chiavettina e poi attivo il controller periferiche xbox 360 clicco sul controller ed eccolo qua il driver funziona quindi dispositivo funziona correttamente eccolo qua e faccio ok quindi il controller si è collegato al pc se non dovesse funzionare c'è il dispositivo configura dispositivi di gioco usb controller usb controller eccolo qua avanzate periferica preferita metto il controller usb che ho inserito quindi che ho collegato ed eccolo qua una volta fatto andiamo a configurarlo su rpcs3 quindi vai su pads questo player 1 quindi in questo caso quello che dobbiamo selezionare dovete provarli tutti finché non vi fa cliccare qua sopra quindi in questo caso a me funziona lì x input x input ci clicco sopra clicco questo tasto del controller ed eccolo qua che me l'ha selezionato left stick che sarebbe questo quindi clicco qua e la sposto su sinistra destra sotto stessa cosa di pad right right left left triangolo io ovviamente premo y cerchio b cross a quadrato x rb r1 r2 questo qua rt lo sto configurando start 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 select 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 il tasto centrale tasto centrale l3 schiaccio l'analogico r3 schiaccio l'analogico destro abbiamo inserito tutto inserito questo qua questo quest'altro e questo una volta fatto assicuriamoci di aver messo tutto abbiamo messo questo abbiamo messo quest'altro e possiamo salvare la nostra configurazione quindi la configurazione è questa del controller io ovviamente su google sto scaricando proprio un gioco per la playstation 3 quindi sicuramente al 100% il controller va clicchi su pad questo qua x input è tutto salvata la configurazione ti fa vedere anche la batteria del tuo controller se è wireless o bluetooth quindi salvo di nuovo quindi la configurazione è questa per altri problemi commenta sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao